Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio del mio Let's Play Walkthrough di Ori and the Will of the Wisps, registrato in 4K e 60fps da PC. Nello scorso episodio avevamo finalmente riunito tutti i fuochi fatui, ho zoomato un po' troppo, dezoomato un po' troppo, completando anche i deserti ventosi e sfuggendo dopo una lunghissima fuga dal vermone gigante. Oggi però, prima di andare avanti con la main quest, con la missione principale, voglio dedicarmi a delle missioni secondarie, a fare un po' di backtracking per riuscire a prendere alcuni potenziamenti e alcune missioni secondarie che ci eravamo lasciati indietro. Perciò sono venuto qui, nel posto più forse odiato da molti giocatori, ovvero nelle profondità di legno marcio, che è il posto dove ci siamo lasciati indietro più roba. Ma dobbiamo andare prima di tutto qui, dove c'è anche un tempio del combattimento, quindi andiamoci subito. Fortunatamente, dopo aver battuto Mora, il ragno, questo posto non è più... Aspettate che mi curo però. Eh, che cacchio. Inizio la puntata già e mi penalizzo così, no? Curati. Volevo dire, questo posto non è più oscuro. Non c'è più l'oscurità, l'oscurità è stata diradata. Ecco fatto, crepa ragno di merda. Olè. E noi dobbiamo andare giù a destra. Eh, di qua sì? Poi giù da questa parte. Posto che non avevamo ancora visitato questo, eh. Eccoci qua. Come vedete possiamo esplorare tutto senza paura dell'oscurità, perché ormai non c'è più. Qui abbiamo il tizio che sputa. E possiamo finalmente andare da questa parte. Qui c'è un passaggio segreto. che ci conduce in questa zona completamente nuova. Che è lo Momoki. Ciao spirito. Quella non è una lanterna vuota? Posso utilizzarla per intrappolare queste lucciole? Posso tornare a casa? Prendi questo. È stato difficile da ottenere. È appiccicoso. E otteniamo seta di legno marcio. La migliore seta delle profondità di legno marcio. Continua la missione del passaggio di consegne. Dobbiamo trovare qualcuno in cerchio di filo. L'abbiamo già trovato. Vediamo se ve lo ricordate. Comunque parliamo ancora a lui. Dunque da che parte devo andare? Per di qua? No. No, si è perso. Rimarrà qui per sempre lui. Allora. Bene. Ed ora dobbiamo queste servivano quando queste sarebbero servite in caso noi fossimo venuti qui con l'oscurità. Perché ovviamente saremmo potuti venire qui già prima. ci sarebbe servita la luce delle candele ovviamente. Bastardo! Pesce di merda va a morire sulle spine va. C'è come ho stato colpirmi. Tra l'altro qui c'è tra il tra il respiro acquatico e il fatto che sia tutto illuminato la difficoltà di questa zona è irrisoria. Guardate. Tranquillamente si può andare qui sopra e prenderci un frammento di cellula energetica. poi già che ci siamo qui ci puriamo. Guardate vi consiglio di seguirlo questo episodio perché anche se è di backtracking vedrete un sacco di zone interessanti un sacco di missioni interessanti. Quindi si va di qua. Lì si potrebbe respirare in caso non avessimo un respiro acquatico. Poi vediamo un po' eh. Vediamo la mappa che si va di sopra prima perché è la zona secondaria. E qui no non è secondaria della verità. Ci serve la leva. Dobbiamo utilizzare la leva per aprire quel posto e lì potete vedere il tempio del combattimento. Prendiamoci questo cristallo anche se non ci serve. E andiamo. Aia volevo scattare e farmi male. Eccoci qui. Poi qui si usa la candela. E siamo arrivati qui sopra. Questo è uno shortcut che si può aprire e questo è il tempio del combattimento. Facciamolo. Uh ragni. Bene così. Fuori. Vediamo chi arriva ora. E giustamente eravamo nella zona dei ragni quindi ci siamo beccati i ragni. Aia che botta. Uh. Una martellata e muoiono. Ok. Si vede che facciamo molti danni eh. Guardate che danni che si prendono. Io intanto mi curo. Altri ragni. Bravo. Scendi così ti posso colpire. Crepa. Ah. Attento eh. Guarda ragno prenditi questo. È un regalo da parte della pianta. Ah non te lo prendi? Ma quel ragno è impossibile da colpire o sbaglio? Eh bravo scendi così crepi. Ecco fatto. A dove l'ho spedito tra l'altro? Oh attento eh. Attento Ari che questa pianta vuole mangiarti. Vai ultima credo ultima fase. Esattamente. Un altro frammento per gli slot. C'è un altro slot per i frammenti. Vabbè non so più parlare. In ogni caso possiamo 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 metterci qualcosa allora. I nemici si rigenerano più velocemente? No. Il segreto non ci serve. Eh questo potrebbe essere utile. Vediamo un po' eh. Ah questo assolutamente sì voglio questo. Vai così. Colpo critico essenzialmente. Bene. Ed abbiamo esplorato anche tutta questa parte di mappa. Perciò possiamo dirigerci qui ed esplorare quest'ultima zone di questa di queste profondità di legno marcio che come vedete senza oscurità non sono nemmeno più così minacciose. Vai liberiamo la lucero anche se non ci serve. Ok scendiamo. Mannaggia quel ragno preferisco non incaponirmi su quel ragno lì perché è un po' ostico da prendere. Preferisco andare su preferisco prendermela con questi qui che sono molto più facili da uccidere. Allora di qua ci sono andato sì bisogna andare da questa parte. No devo andare più su. Ah è vero qui tra l'altro c'è anche la gara che non abbiamo fatto. Eccola qua. Prima però vorrei esplorare magari quella zona. No vabbè tanto se non sbaglio mi riporta qui. E questo tra l'altro è il traguardo quindi non posso cioè non posso nemmeno iniziare da qui volendo cioè neppure volendo potrei farlo. Qui intanto però abbiamo una cellula vitale. ecco fatto qui abbiamo esplorato tutto mancherebbe solo questa parte qui che andiamo a fare ora ecco qua con l'ultima abilità di movimento tra l'altro sarebbe ancora più semplice vabbè già che ci siamo a questo punto qui apriamo lo shortcut e esploriamo così anche quest'ultima parte la coloriamo ed ora andiamo la coloriamo coloriamo comunque ecco bravo crepa no infame di un ragno che odio ecco grazie fatemi andare su fatemi andare su bravi devo andare lì in alto ecco qua devo andare ancora più su devo andare qua ah e troviamo esattamente il piedistallo della gara eccoci e a questo punto dato che abbiamo praticamente esplorato tutta questa zona mancherebbe solo quella minuscola parte di esperienza e quella parte qua direi di andare a provare a fare la gara vai questi li passiamo così che non ci interessano ah la libertà che ti dà Ori nel movimento è qualcosa di incredibile cioè guardate e siamo alla gara manca il tempo di dirlo il percorso sarà ostico eh sarà davvero ostico come percorso perché dobbiamo andare sotto poi salire fare tutto il giro ed arrivare al traguardo tosta e non so se ce la faremo al primo colpo magari dobbiamo studiarci un po' il percorso via ok si va qui sotto buono per adesso non ce la stiamo cavando male ok forse abbiamo vinto wow primo colpo easy boys e altri mille punti esperienza presi a questo punto direi di andare ad esplorare quest'ultima parte qui c'era anche la il il cosino di esperienza dove è finito scomparso vabbè comunque andiamo ad esplorare quell'ultima parte delle profondità di legno marcio ma ve lo ricordate c'è la prova a video che c'era la pallina di esperienza da prendere ora è riapparsa no è scomparsa non c'è più niente andiamo da questa parte ora dobbiamo semplicemente andare tutto a sinistra siragno infamio via tutto a sinistra tutto a sinistra non voglio combattere contro di voi nemmeno contro di voi no grazie contro di te si volentieri perché sei scarso ok dobbiamo scendere qui in realtà ecco fatto guardate come tenta di cecchinare che crepa con lui giochiamo un po' pallavolo e possiamo arrivare qui zona inesplorata con quel ragno che è tremendo scendi per favore scendi scendi ok morto va bene comunque e qui c'è dell'acqua vediamo di esplorare un po' questa zona e i pesci facciamoli morire sulle spine ecco moriamo pure noi sulle spine al momento vabbè che stronzo ti sta bene guarda ok qui serve solo per respirare mandiamo il pesce sulle spine così non ci dà fastidio eccoci qui frammento di cellula energetica sì ma non riempire la zona di sbobba va di spine disgustose perché abbiamo una povera lucciola intrappolata nelle ragnatele guardate i dettagli di questo gioco quanto sono fighe e qui potremmo usare di nuovo la lucciola per tornare indietro nel caso in cui non avessimo avuto la nel caso in cui ci fosse ancora stata l'oscurità avremmo potuto usare lei per tornare indietro ecco fatto quindi abbiamo esplorato quasi tutte le profondità del mio marcio non capisco perché ci sia ancora quel 91% non so dove debba andare per sbloccare l'ultima parte perché a me sembra tutto colorato sinceramente quindi senza perdere ulteriore tempo qui andiamo a continuare la la missione del come si chiama la missione della consegna vi siete ricordati di chi ci chiedeva del filo del filo di seta va che però tra l'altro speedrunner speedrunner tactics prendiamo l'esperienza mentre ci teletrasportiamo quello che ci chiedeva l'esperienza il filo volevo dire era questo mochi per pescare ciao ma quello non è filo diciamo quello non è filo un po' un'introduzione un po' barbina qui dove l'hai trovato? potrei usarlo per fare un retino adatto a una grande a un grande pescatore mochi guarda cosa ti do in cambio è il vecchio cannocchiale di mio padre non ti preoccupare non ne avrà bisogno ormai non naviga più non fa che dormire e mangiare tanto per questo mi serve un retino ok hai trovato un nuovo oggetto missione realizzato con legno finemente intarsiato e cristalli raffinatissimi trova qualcuno in cerca di un cannocchiale ecco questa è ostica perché pensandoci bene nessuno ci ha mai chiesto un cannocchiale è una cosa da pensarci un po' sinceramente ma già che siamo qui direi di andare a completare queste due zone che ci mancavano ai laghi di luma poi andremo a consegnare il cannocchiale non preoccupatevi completeremo la missione delle consegne in questo episodio è una promessa allora noi qui abbiamo la sabbia dove prima non potevamo andare oh cacchio prendiamo l'esperienza ok quindi abbiamo preso anche quella poi andiamo su eccoci qui guarda tu vai nell'acqua per favore grazie tu vabbè guarda rimani lì e qui era da esplorare però era da esplorare anche dall'altra parte in realtà ma tornato ad andare nell'acqua vai nell'acqua no eh che cacchio mi è se ci arriva l'esperienza del tipo morto forse no allora qui era dove stavamo scappando dal quolo corrotto e dobbiamo andare qui sotto però non riusciamo ad andarci come possiamo arrivare lì sotto magari da qui esattamente infatti qui c'era la sabbia tra l'altro ecco perché non potevamo andarci prima che testate che prende ori con la sabbia ha bisogno essere molto più veloci ok è una prova a tempo allora dato che è una prova a tempo uccidiamo il pesce che mi dà fastidio ecco fatto e siamo veloci ecco fatto prova a tempo superata abbiamo il cristallo dai gorlek possiamo aprire di nuovo questo per uscire ecco fatto e tornare in superficie minerale dei gorlek preso ora qui abbiamo esplorato tutto credo di si manca solo quella zona lì dell'acqua andiamo a farla subito che bella questa zona però fa venire i brividi ogni volta che la guardo bellissimo minacciosi questi allora due in un colpo solo e crepi pure tu no non crepa perché è sopravvissuto ok e qui posso aprire lo shortcut lì avevamo già preso ciò che dovevamo prendere e qui abbiamo fatto praticamente tutto la gara è stata completata mancherebbe solo questa zona qui minuscola dunque probabilmente c'è un potenziamento e poi credo basta credo proprio di si a questo punto però dato che non mi interessa andare a prendere quel potenziamento minuscolo ah ma c'è ancora la bussola smarrita di tock c'è ancora quella missione iniziale secondaria che non abbiamo ancora svolto comunque ritorniamo alla base non posso trasportarmi finché sono in acqua quindi usciamo ecco questo questo mostriciattolo deve ucciderci ok ora possiamo interetrasportarci vai perché colui che ha bisogno del cannocchiale si trova lì questo è un indizio vediamo se ci arrivate prima che io arrivi effettivamente dal da quel personaggio allora chi è che ha bisogno di guardare molto da lontano dai fammi andare su motai colui che tiene traccia di tutte le nostre gesta wow quello è un cannocchiale mi farebbe davvero comodo così non dovrei seguirti troppo da vicino non che io ti stia seguendo ovunque tieni prendi questa borraccia è piena di acqua deliziosa due per una hai trovato un nuovo oggetto missione è realizzato con pelle pregiata ed è pieno di acqua fresca trova qualcuno che abbia bisogno di acqua potabile e questo amici miei sapete già chi è perché l'abbiamo incontrato proprio nello scorso episodio il grom eccolo qui dobbiamo arrivarci però vediamo la la parte il modo più veloce per arrivarci il modo più veloce per arrivarci potrebbe essere questo dai andiamo qui perché c'erano due pozzi del spirito quasi qui distanti dalla missione dal grom quindi boh andiamo con questo qui tra l'altro possiamo anche fare così e prendere il minerale dai gorlek che ci eravamo lasciati indietro ecco fatto curiamoci per non rischiare di morire come bestie ok diamo un'occhiata alla mappa per sapere dove dobbiamo andare potremmo anche fare la gara dire la verità possiamo anche fare questa gara qui e direi di farla perché ci porterebbe tra l'altro qui a poco dal gorlek quindi facciamola vai iniziamo la prova dello spirito vediamo il percorso che dobbiamo fare anche questa non è molto facile come gara tosta perché dobbiamo usare molto lo scatto con la sabbia non sempre riesco a prenderlo molto bene guardate dobbiamo tornare lì all'albero fare tutto il giro ed andare su mi sono già dimenticato mettere il percorso andiamo bene vedrò di seguire il fantasmino qui ah non devo andare lassù ok ho già perso se riesco a recuperarlo ne dubito perché con uno svantaggio così grosso difficile recuperarlo però forse se siamo bravi attenzione attenzione wella raga gli abbiamo dato pure un botto di vantaggio all'inizio e l'abbiamo completata ecco poi non mi ricordavo più che effettivamente ripartissi dall'inizio pensavo di ripartire dalla fine della gara comunque ora sappiamo qual è il percorso per andare su e possiamo farlo in maniera ultra veloce perché siamo skillati grazie alla gara eccoci qua siamo arrivati dal grom dal gorlek volevo dire un viandante ma quella non è una borraccia una borraccia piena non tenderebbe di condividerla con un povero gorlek errante grazie sarebbe stato un vero peccato sfuggire alla corruzione solo per soccombere alla sete oh mio dio ma che cosa triste ecco prendi questa lastra di pietra l'ho trovata nei pressi delle rovine e ha tutta l'aria di essere qualcosa di importante è inciso con linee sottili e simboli esotici trova la vecchia mappa di pietra ma vi ricordate che nello scorso episodio noi la vecchia mappa di pietra l'avevamo già trovata andiamo nelle rovine tempestose infatti non ci dice più che dobbiamo consegnarla a qualcuno di cui ne ha bisogno questo è l'oggetto finale andiamoci la vecchia mappa di pietra se non sbaglio è di qua nelle profondità delle rovine tempestose tra l'altro qui se non sbaglio c'è anche un passaggino segreto no ok no niente eccoci qua ora abbiamo effettivamente il prompt premix per collocare il frammento della mappa di pietra e questo è importante tutti i segreti sono stati segnati sulla tua mappa abbiamo completato la missione del passaggio di consegne e abbiamo una ricompensa gigantesca ora tutti i segreti sono apparsi sulla mappa e possiamo anche capire infatti che ad esempio qui ci mancava un collezionabile ecco perché abbiamo una percentuale di completamento non al 100% vediamo se ce ne sono altri in giro non sembra quindi forse dovrebbe essere proprio solo quello qui ne abbiamo un altro che ci stanno dimenticati di prendere qui altri qui abbiamo la gara con il minerale dei gorlek no quello è un cristallo questo è un cristallo che non mi ricordo cosa serva cosa sia come simbolo guardate qui abbiamo tra l'altro uno spoiler della mappa finale vabbè con tutti i collezionabili che ci sono dentro e niente sono apparsi praticamente tutti i collezionabili sulla mappa ecco cosa ci siamo dimenticati nelle profondità del legno marcio quel minerale dei gorlek vedete tutto è comparso ora anche qui non ci sono più segreti per noi abbiamo completato una delle missioni più lunghe del gioco una missione secondaria uh questo è il seme questo è il seme per il tizio Tulei guardate quanto ci manca effettivamente l'aghi di luma in realtà pensavamo di aver completato tutto e invece c'era addirittura un seme qui qui tutto qui c'è probabilmente l'oggetto della missione la bussola credo potrebbe essere la bussola dei tock questa qui è la bussola smarrita qui abbiamo una gara che non l'abbiamo ancora fatto nella zona a iniziare dal gioco vedete ragazzi c'è un bel po' di roba e la vetta di Baur che dovremmo completare tra l'altro c'è un botto di roba che non l'abbiamo fatto alla vetta di Baur guardate quanta roba abbiamo lasciato indietro bene ma detto ciò tutta quella roba lì probabilmente la prenderò off screen a parte magari roba abbastanza importante come i semi o le costruzioni dei minerali di Gorlek quale magari vi faccio vedere in un video dopo aver finito il gioco perché questo video finisce qui e voglio da qui in poi fare un rush finale per finire la storia senza più interruzioni di missioni secondarie quindi già che ci siamo andiamo a teletrasportarci nel posto giusto per proseguire ovvero questo ecco qui e nel frattempo concludo il video vi ricordo di mettere un mi piace se il video vi è piaciuto di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti da Gratial Spear e Ori è tutto al prossimo video siete pronti per l'atto finale